Sarri è da Champions, la Juve no. Ad Allegri restano solo le coppe e il 15 in tribunale, anche se avesse ragione Mourinho, e alla Juve, il 19 aprile, il collegio di garanzia del CONI restituisse i 15 punti che le sono stati tolti, la Lazio, vincitrice sui bianconeri per 2-1, è ormai designata ad entrare in Champions League in forza dei risultati e del gioco che li accompagnano. Da seconda, come è ora, con 6 punti sul Milan e 5 sulla Roma. O da terza, sarebbe dietro la Juve, appunto, l'esito non cambierebbe, perché il vantaggio è al tempo stesso considerevole e rassicurante. In più c'è la qualità della manovra e la duttilità dei singoli a fare la differenza. Se va ammesso, infatti, che nell'ultima mezz'ora la Lazio ha sofferto il ritorno della Juventus, bisogna anche rilevare che fino al gol di Zaccagni, quello decisivo, c'è stata una sola squadra in campo. La Lazio, lo sanno tutti, è un collettivo che abbina la solidità alla qualità, la capacità di un palleggio fitto e, a volte, sublime, alla saldezza difensiva. Che non sia solo una questione di reparto, lo si è visto proprio nel finale, quando tutti si sono sacrificati in fase di non possesso. Successo meritato. Dunque, anche se la Juve, dopo i cambi effettuati da Landucci, Allegri è rimasto a Torino con l'influenza, è piaciuta molto e, forse, ha trovato un nuovo modo di stare in campo che potrebbe esserle utile in Italia e, magari, in Europa League. Purtroppo per la Juve, non avere un centravanti all'altezza sta diventando un grande problema. Blaovic, uscito anche perché toccato duro nel primo tempo è totalmente involuto e non tiene una palla che sia una. Milik, al secondo spezzone di partita dopo un lungo infortunio, non ha ancora, o, forse, non ha più il guizzo di una volta.